La competizione era fatta sui prezzi La competizione è fatta sulla qualità, dove sempre tra due articoli, vent'anni fa molto probabilmente avremmo acquistato l'articolo non che costava di meno, ma che aveva la qualità migliore. Infine, Ace diceva, oggi la competizione, in futura competizione sarà fatta sul design ed effettivamente aveva ragione perché oggi siamo arrivati in un momento storico dove la competizione è veramente sul design. Io penso che tutti abbiamo a casa o in tasca un telefono o un computer Apple, solamente perché ha un'interfaccia, una funzionalità migliore rispetto a quella di altre compagnie. Ma la domanda è che dovremmo farci, come saranno le imprese dopo l'emergenza Covid, dopo il lockdown che abbiamo fatto? Stiamo entrando in un quarto fattore, dove è diventato importantissimo non solamente come un prodotto è alla fine, ma anche come un prodotto viene realizzato. Cioè il design e la qualità restano fondamentali, però la gente fa attenzione nel vedere se durante la realizzazione di quel prodotto l'azienda ha abbracciato dei valori che loro ritengono fondamentali. C'è un bellissimo esempio che parla di questo, non so se avete presente la pubblicità che c'è da qualche settimana in televisione con Leonardo Di Caprio della nuova 500 elettrica. Perfetto, quella pubblicità lì rappresenta benissimo quello che sto per andare a dirvi. Cioè in quella pubblicità lì non pubblicizzano il prodotto in sé, ma pubblicizzano i valori che quel prodotto porta. Infatti hanno chiamato Leonardo Di Caprio che è il rappresentante della sostenibilità ambientale, perché? Perché appunto hanno voluto pubblicizzare questi valori. Io da giovane imprenditore non voglio parlarvi di sostenibilità ambientale, ma voglio parlarvi dell'altro valore fondamentale, che è l'etica sociale nelle imprese. E voglio parlarvene perché io ho avuto nella mia vita un punto di riferimento importantissimo, che me l'ha trasmesso molto probabilmente anche inconsciamente. E questa persona era mio nonno. Mio nonno è immigrato in Trentino negli anni 60 e ha aperto con i fratelli un'impresa, che lavorano marmi e graniti, estragono marmi e graniti dalle cave. E mio nonno ha sempre gestito l'azienda in modo etico, cioè lui metteva le persone al centro. Lui riteneva l'azienda non un fine, ma un mezzo. Cosa voglio dire? Non la riteneva un fine per guadagnare soldi, ma la riteneva un mezzo per prendere quei soldi che guadagnava, per poi distribuirli alle persone che ne avevano più bisogno, a tutte le altre persone. Io penso che lui avesse questa specie di scala gerarchica, dove riteneva le persone più vicine a lui come quelle un pochettino più fortunate, perché noi avevamo l'azienda e quindi magari potevamo permetterci qualcosina di più rispetto a quelli che non l'avevano. E quindi le persone che erano un pochettino più lontane da lui, lui le riteneva come le prime a cui doveva dare il suo aiuto in caso di bisogno. E c'è un bel aneddoto che spiega di questo. Una volta è successo, mi raccontava mia nonna, che lei doveva cambiare il gas di casa, no? Perché aveva un pomello che non andava abbastanza bene. E quindi andò da mio nonno e disse, Faustino, dobbiamo cambiare il gas di casa perché c'è un pomello che non va bene. Mio non andò lì, guardò sto pomello, in realtà era solamente appunto il pulsante che non andava, quindi il gas funzionava, da mangiare si poteva fare. E quindi decisero di non cambiarlo. Qualche giorno dopo andò da una signora di un paese vicino, che aveva un problema molto simile con i fornelli del gas, e niente, alla signora lo cambiò e a mia nonna no. Perché? Perché probabilmente in quel momento riteneva più bisognosa la signora rispetto a mia nonna. E lui era fatto così, lui ha sempre gestito anche l'azienda in questo modo. E ha sempre lavorato in cava, non ha mai lavorato negli uffici, perché lui era un uomo di fatica, di altri tempi, e lui piaceva lavorare con le mani. Però la cava veniva e viene ancora chiusa perché si trova a circa 1600 metri in inverno. Quindi nevicava e quindi non si poteva lavorare. E perciò mio nonno ha deciso di sfruttare questi mesi in cui la cava veniva chiusa per fare qualcosa per gli altri. Per 40 anni andò in Africa, coinvolgendo altri imprenditori, andò in Africa a fare opere di volontariato, a costruire dei ponti, degli acquedotti, degli ospedali, delle centrali elettriche. Forse la cosa più bella che mi ha lasciato più il segno è quella volta che non è andato in Africa, ma è andato in Peru. E lì ha coinvolto altri imprenditori come lui che lavorano a pietra e sono andati in questo posto spettacolare. C'era questa foresta a quasi 4000 metri di quota, dove hanno trovato questo ammasso, questa montagna gigante di granito. E decisero di avviare lì una società per l'estrazione e un piccolo lavoratorio per la lavorazione del granito. Ecco, una cosa che mi rende veramente orgoglioso è che quella società, che oggi conta 130-150 dipendenti, non è intestata la nostra famiglia, ma è intestata ai missionari del posto. E questo è veramente bellissimo. Cioè lui riteneva l'importanza etica delle imprese e oggi stiamo andando veramente in questa direzione. E lo dimostra un bellissimo articolo del Corriere della Sera, dell'anno scorso, che spiega come 181 CEO americani di queste 181 aziende della Roundtable, la Roundtable americana è la nostra confindustria per capirci, ecco questi 181 CEO hanno firmato un trattato, una tesi, che dice Ok, le nostre imprese non hanno lo scopo solamente di distribuire utili agli azionisti, ma hanno uno scopo più nobile. Il vero scopo delle nostre imprese è quello di creare valore condiviso. Cosa intendono? È quello di creare qualcosa per le altre persone. Loro chiamano il valore condiviso quello che io chiamo etica sociale. E stiamo parlando di aziende come Amazon, BlackRock, Apple, Boeing. BlackRock è l'azienda di investimenti più grande al mondo. E quando aziende come BlackRock, come Amazon e come queste vanno in questa direzione, vuol dire che siamo veramente di fronte a un cambiamento enorme. In Italia abbiamo un bellissimo esempio di impresa etica, ed è Brunello Cucinelli. Per chi non conoscesse Brunello Cucinelli è questo imprenditore del Kashmir, imprenditore e stilista del Kashmir. Brunello è nato in povertà e quando si accorse che il papà tornava a casa da dove lavorava, umiliato dal suo datore di lavoro, si fece una promessa e disse io non so cosa farò da grande, ma so che quello che farò lo farò per le persone. Io voglio lavorare per la dignità delle persone. Perfetto. Oggi Brunello Cucinelli conta circa 2.000 dipendenti, l'anno scorso ha fatturato più di 600 milioni di euro, è uno dei miliardari italiani. Ma non si è dimenticato quella promessa che si era fatta. Ho avuto la fortuna di conoscere Cucinelli l'anno scorso ad un evento e assieme a lui c'era un membro del suo consiglio di amministrazione, Andrea Pontremoli. Andrea Pontremoli, oltre a essere nel consiglio di amministrazione di Brunello Cucinelli, è amministratore delegato di Dallara Automobili e prima era amministratore delegato di BM Europa. E lui in quell'occasione raccontò un aneddoto, una storiella bellissima. Disse che una volta si trovava a Parigi che stava lavorando per IBM e si trovava in aeroporto, stava viaggiando per lavoro e riceve la chiamata da Brunello Cucinelli. E Cucinelli gli disse, Andrea, ho un'idea bellissima. Ho già parlato con i proprietari. Fuori dalla nostra azienda ci sono 7-8 capannoni con 50 milioni di euro. Li compriamo tutti, li abbattiamo e facciamo un bel prato. All'altra parte del telefono Pontremoli disse, sì Brunello, idea bellissima eh, però io come membro del tuo consiglio di amministrazione faccio fatica, addirittura non posso approvarti una cosa del genere. Effettivamente era una cosa abbastanza difficile. Però in quel momento chiamarono il suo aereo e quindi Pontremoli messe giù il telefono, la discussione finì lì. Qualche giorno dopo Cucinelli lo richiamò e disse, Andrea, ci ho pensato, effettivamente, molto probabilmente, il consiglio di amministrazione non mi approverebbe mai una spesa del genere. Lo faccio io. Quindi Brunello andò, vendete 50 milioni di euro delle sue azioni, con quei 50 milioni di euro acquistò quei capannoni, li abbatté e fece un bel prato, fece un parco per la comunità. Alla domanda di Pontremoli, ma Brunello perché l'hai fatto? La risposta è stata veramente bellissima. Perché così è più bello e tutti possono godere di quella bellezza. Cioè capite, lui ha voluto usare la sua azienda per il bene delle altre persone. È quello che sto cercando di trasmettervi oggi. Anch'io sono un giovane imprenditore e tra i motivi, tra i valori che ho voluto portare in azienda, forse il più importante è quello dell'etica. Perché abbiamo capito che per le imprese questo porta a una cosa fondamentale, a due cose fondamentali. Primo, le persone che lavorano in imprese etiche lavorano meglio, stanno meglio, ma non solamente i dipendenti, tutti i dipendenti, gli stakeholder, i collaboratori, tutte le persone che hanno a che fare con un'impresa etica sono più contente, vivono meglio. Due, come dicevamo all'inizio, oggi la competizione è fatta su questi tipi di valori e quindi le imprese etiche hanno più competitività sul mercato. Perché? Perché la gente è attenta a questi valori. La gente preferisce acquistare in aziende che sono attenti a questi valori piuttosto che in aziende che questi valori non li seguono. Ovviamente non tutte le aziende possono essere come Brunello Cucinelli che possono spendere 50 milioni di euro per fare un parco da donare alla comunità, ma possono fare qualcosa nel loro piccolo. Possono dare un qualcosa di più ai collaboratori in senso di stipendio. Possono cercare di motivare o di far seguire i loro obiettivi ai collaboratori. Possono cercare appunto di mettere le persone a centro. Se una persona ha delle esigenze possono cercare di dargli una mano e far raggiungere i loro obiettivi a queste persone, le loro esigenze a queste persone. Ovviamente non solo l'imprenditore può fare questo, ma anche le persone che lavorano nelle aziende può e deve fare questo. Devono in qualche modo creare sinergie, devono in qualche modo collaborare con gli altri, devono in qualche modo anche loro mettere le altre persone che lavorano, che collaborano o con cui hanno che fare nelle aziende davanti agli obiettivi di utile aziendale. e questo era il messaggio che volevo trasmettervi e volevo concludere con questa frase che mi diceva spesso mio nonno che per me è stato il motivo di aver aperto un'impresa e di essere andato in questa direzione che è fai le cose per gli altri e in questa frase ne aggiungo una mia e qualcosa tornerà anche a voi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.